Sta arrivando l'autunno, si avvicina la fine di settembre che è tradizionalmente l'apertura della stagione del tartufo che dal nostro territorio porta quest'anno un'aggiunta interessante, la pubblicazione L'Italia del tartufo a realizzarla Gianluca Caraps, da sempre attento alle politiche agroalimentari e dunque si parte con questo strumento in più per orientare tutto un mondo particolare e tutta quella utenza che è interessata a questo mondo. Certo, questo è un progetto importante che parte dalle marche ma avvolge tutta l'Italia. Abbiamo ridisegnato la geografia del tartufo in Italia perché abbiamo censito 138 comuni tartufigeni con un progetto crossmediale, una guida ma un sito internet L'Italia del tartufo per promuovere quelle città che hanno creato con il tartufo un valore aggiunto per l'attrazione del turismo per il rilancio dell'economia e soprattutto per il rilancio delle aree interne. Le marche fanno da protagonista, hanno 34 comuni su 138, dimostrano che hanno un grande valore aggiunto sul tartufo quindi questo anno partirà la raccolta del bianco fra poco, come ha detto, sarà una grande annata. Iniziano le fiere, abbiamo a Pergola, a Pecchio, poi arriverà Acqualagna, poi ci sarà Amanda, tutte le fiere. Quindi ci sarà un grande momento e un grande attivismo e quindi l'abbiamo voluto raccontare in questo volume l'Italia del tartufo. Una valorizzazione che però va oltre l'eccellenza nostra interna ma vuole anche portare alla scoperta di quegli angoli magari meno conosciuti su questa specialità agroalimentare. Certo perché questo percorso è un percorso tra i borghi e un percorso tra i piccoli paesi, tra i tanti campanili di cui è fatta l'Italia, della grande biodiversità demografica di questo paese. Abbiamo raccontato i siti minori, abbiamo raccontato un'Italia che molte volte nessuno conosce ma che è bellissima e straordinaria e quindi grazie al tartufo si scoprono i giacimenti naturali. Quali sono i monumenti, quali sono i posti più belli da vedere, dove mangiare, dove dormire e qual è la magia del tartufo. Quindi abbiamo messo insieme tutte queste notizie che possono creare per il lettore, per l'utente un percorso vero in Italia ma non nelle grandi metropoli, non nelle grandi città ma proprio nei piccoli comuni. Dove si trova e come si può reperire l'Italia del tartufo? Allora andrà in tutte le edicole e librerie, sarà disponibile online e poi ci saranno delle presentazioni. Il 30 ad esempio saremo ad Urbino, il 30 settembre ore 17, Monastero Santa Chiara dove faremo la prima presentazione marchigiana perché c'è stata la presentazione romana ma adesso ci sarà qui la presentazione marchigiana ad Urbino e partiremo proprio con le 100 miglia del gusto nelle terre del tartufo, quindi ci sarà un equipaggio ACI che arriverà a Urbino con delle macchine d'epoca presenteremo il libro e poi andremo ad Acqualagna e poi andremo a Pergola. Quindi come vedi è un fil rouge, anzi fil green che tiene insieme tutto il mondo del tartufo tutte le aree interne e tutto un turismo che destagionalizza e che parte proprio dai piccoli borghi.